Pronti a partire le due del Team Sabat là davanti e si parte, è tempo di fare rock'n'roll nella prima mancia di Monreal, parte il campionato italiano AC Sport e Touring Car 2023. Bianca, Graziano, vediamo se va a superare in velocità l'argentino, side by side le due vetture. Ah, è un motore che brucia lì, c'è un doppiato, lentissimo, l'attacco, il sorpasso e arriva anche l'attacco di Ponta, attenzione. Ti piace apprendersi questa prima mancia in un coppo di scena finale, Stefanina segue nel Team Sabat e poi Ponta rimane lì al terzo posto. Tutte le luci di colore verde si devono spegnere, si fa rock'n'roll per la seconda volta da Monreal al circuit di Villeneuve, Graziano là davanti Reales che va a perdere subito la prima posizione. Oh, va a prenderla. Muro dei campioni colpisce ancora. Inserisce Ponta su Eston, è spottato, disastro per Ponta, Eston ancora al World of Champions. Oh, wow, wow, molto spaventoso. Si butta dentro l'inglese, il contatto vola, vola Reales, ma va anche un po' più avanti degli altri. Slow down, slow down. Slow down però per lui, Stefanina ne approfitta, si inserisce la seconda posizione, Graziano con il miglior giro intanto. Graziano, il vincitore l'anno scorso del campionato, va a prendersi la seconda mancia, dice a tutti che lui c'è, lui c'è assolutamente.